Parte il nuovo corso dell'Ater, ufficialmente questa mattina si è insediato il CDA. Sì, intanto saluto tutti perché per me oggi è una giornata particolarmente importante ed anche ricca di emozioni. Sento il peso dell'incarico che sto per assumere appunto sin da oggi, della responsabilità che insita proprio in questo nuovo ruolo. Sono consapevole dell'attività che mi aspetta, dell'importanza di tutta la fase appunto che riguarda la ricostruzione post-sisma, oltre che alla gestione proprio ordinaria e istituzionale dell'Ater. Spero appunto di poter rispondere alle esigenze concrete degli inquilini, adottando atti trasparenti e in una logica di imparzialità. Inizierò proprio con l'analisi degli atti dell'Ater, quindi andando a verificare proprio le singole posizioni degli inquilini, vedendo le esigenze, andando a verificare personalmente, proprio per non lasciare disattese le loro aspettative e per cercare proprio di dare quelle risposte che da tempo si attendono. La valutazione è stata fatta sull'esperienza della gestione della macchina amministrativa. E appunto da anni sono in pubblica amministrazione e soprattutto l'ho sempre caratterizzato il mio ruolo per un costante aggiornamento proprio della funzione. Da ultimo, proprio quest'anno, sono stata vincitrice della borsa di studio alla Scuola Nazionale di Amministrazione, in virtù della quale sono stata messa a partecipare ad un master di secondo livello in Management e Politica Pubblica, appunto all'Università Lewis Guido Carli di Roma. Quindi proprio questa ulteriore formazione, questo approfondimento, sicuramente è stato uno degli elementi caratterizzanti il mio percorso formativo e soprattutto forse più significativo nell'analisi del mio curriculum. Senta, riconosce il buon lavoro svolto finora da Nicola Salini? Ci sarà insomma anche continuità con il suo lavoro? Ma guardi, sicuramente io non sono in grado oggi di poter esprimere giudizi perché mi sto insediando ed è proprio una mia caratteristica quella di poter esprimere giudizi solo dopo aver valutato, dopo aver analizzato gli atti. Ho già chiesto all'organo di gestione, ai dirigenti, appunto alcuni atti, perché solo allora potrò dire, ma sono certa comunque, che il lavoro sia stato ben fatto. Naturalmente l'attività che l'ente dovrà fare è un'attività ancora molto impegnativa perché i fondi ci sono per la ricostruzione, ma dobbiamo avviare proprio l'attività per far sì, come dicevo appunto, nell'esprimere le priorità del Consiglio di Amministrazione che oggi si insedia, che sono appunto quelle proprio di garantire al più presso il rientro degli inquilini nelle abitazioni. È chiaro che per fare questo non possiamo farlo da soli, come ATER. Dobbiamo necessariamente attivare o una task force o la mobilità interenti acquisendo delle professionalità, ma dei dipendenti già formati, dipendenti che sono in grado di avviare la ricostruzione. Scusi, task force all'interno dell'ATER? Come? Task force all'interno dell'ATER? Ma non è detto, potrebbe essere anche interenti tra tutti gli attori istituzionali che si occupano di ricostruzione, mi riferisco al Comune, mi riferisco alla Regione, quindi mi riferisco ad enti che già conoscono la tematica e che sono consapevoli che hanno sia la capacità professionale, ma che hanno anche chiaro quello che è l'obiettivo, che conoscono anche i procedimenti, procedimenti che sicuramente sono stati ingessati dal codice degli appalti pubblici, però non ci possiamo nascondere magari solo dietro dei procedimenti sicuramente più complessi, perché l'obiettivo nostro deve essere quello appunto di dare risposte concrete.